Grandi questioni, il premierato. Su questa riforma io spero che si possa creare, che si possano costruire delle convergenze se si vuole stare nel merito e se si è in buona fede. Se quelle convergenze non dovessero arrivare, io la considero comunque una riforma necessaria, devo chiedere ai cittadini che cosa ne pensano. Poiché però, a mio giudizio, il disegno di riforma costituzionale proposto dal governo presenta vari aspetti allarmanti, il tentativo di forzare un sistema di democrazia parlamentare introducendo l'elezione diretta del capo del governo, che è tipica dei sistemi presidenziali, comporta, a mio avviso, quello di produrre una stabilità fittizia nella quale un presidente del Consiglio cementato dall'elezione diretta deve convivere con un Parlamento riottoso. Intanto io non ho mai pensato a fare un rimpasso di governo, anzi io tra gli obiettivi che mi sono data, diciamo tra le cose sulle quali mi piacerebbe fare la differenza, c'è proprio di arrivare a cinque anni con il governo che ho nominato perché questo non è mai accaduto nella storia d'Italia, no? Osservatorio di Pavia, su Telemeloni, la Meloni è drammaticamente ultima e quindi io non accetto francamente queste accuse, penso che le accuse non siano, il nervosismo non sia perché c'è Telemeloni, penso che le accuse siano perché non c'è più Telepd, ma questo lo avevamo promesso, avevamo promesso che avremmo fatto un servizio pubblico che faceva il servizio pubblico e che dava libertà di parole e la possibilità di essere rappresentata a tutti. Quello che vedo è che il presidente della regione Liguria ha detto che avrebbe letto le carte, che poi avrebbe dato la sua versione dei fatti e credo che il minimo sindacale di rispetto per un uomo che oltretutto obiettivamente governa molto bene la sua regione da diversi anni sia a tendere le sue parole. Abbiamo oggi in Italia una classe dirigente, una classe al governo che non vuole e sta facendo di tutto per evitare gli strumenti di vestire lui, sta smantellando tutti i presidi anti-corruzione e noi abbiamo introdotto la corruzione. La corruzione mortifica legittime aspettative, deteriora la qualità dei servizi pubblici, rafforza le mafie, inquina la democrazia, ha un costo sociale, civile e umano, oltre che economico. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, ieri intervistata da Maurizio Belpietro, Giorgia Meloni ha parlato a tutto campo di tutti i temi principali d'attualità e ha parlato per la prima volta, ha commentato quello che sta succedendo in Liguria, il terremoto in Liguria. Avete visto, dice Giorgia Meloni, aspettiamo che il governatore Toti, tuttora gli arresti domiciliari, sia ascoltato dai magistrati. Vediamo cosa dirà Toti. Toti, che appunto dovrebbe essere ascoltato la prossima settimana, su cui potrebbe incommere l'ombra di un altro reato, quello di concussione, e che, secondo molte indiscrezioni, sarebbe pronto a dimettersi. Questo perché, come sapete, ci sono posizioni differenti nella maggioranza di governo, ma c'è soprattutto un pressing molto forte da parte delle opposizioni, con, per esempio, la segretaria del PD Schlein, che ha detto che non deve restare un minuto di più e ha invitato tutti i partiti ad alzare la guardia contro la corruzione, e la corruzione di cui ha parlato nella relazione al Parlamento il presidente dell'ANAC, Busia, lo avete visto nella nostra copertina, che ha sottolineato come in nessun altro paese dell'Unione Europea come in Italia la corruzione fa danni così alti. Poi vedremo nel corso della puntata le tante cose che ha detto Giorgia Meloni, alcune le avete ascoltate in questa breve sintesi. Poi c'è il premierato, anche lì, difeso a spada tratta da Giorgia Meloni, contro la madre di tutte le riforme, si è scagliata la senatrice a vita, Liliana Segre, ieri parlando appunto nell'aula di Palazzo Madama. Poi c'è una notizia, diciamo, dell'ultima ora, che è molto importante perché riguarda il super bonus, in Commissione Finanze, sempre in Senato, è stato votato, anche grazie all'appoggio di Italia Viva, all'emendamento del governo che contempla la cosiddetta retroattività sui crediti. Forse Italia si è astenuta, ha ottenuto, diciamo, in cambio il rinvio all'inizio del prossimo anno della Sugar Tax con Tajani, che dice anche stamattina saremo molto leali anche in aula. Insomma, abbiamo molto di cui parlare. Bentornata Federica Fantossi da Fitton Post, ciao Federica. Buongiorno. Saluto Lando Maria Sileoni, segretario generale della Federazione Autonoma dei Bancari Italiani. Buongiorno, grazie. E c'è anche l'economia in primissimo piano. Per la maggioranza saluto Paolo Damilano, imprenditore, consigliere comunale a Torino, dopo aver gareggiato a sindaco di Torino come candidato del centrodestra, mi pare con la lista Torino bellissima, e per queste europee candidato con forza Italia nella circoscrizione nord-ovest, no? Damilano, buongiorno. Esatto, sì, buongiorno, buongiorno. Grazie. E per l'opposizione io saluto Ignazio Marino, l'ex sindaco di Roma, bentornato, candidato con alleanza Verdi e Sinistra, capolista, mi pare, nella circoscrizione centro e, diciamo, al numero due nel circoscrizione nord-ovest. Bentornato. Allora, però io devo fare subito una domanda a Marino. Adesso comincio da Federica Fantozzi per inquadrare un po' la situazione politica. Ma che c'è il demone della politica, Marino? Lei aveva fatto il sindaco, sappiamo come è andata la vicenda di sindaco, e è tornato a fare la sua attività di chirurgo, no? A Filadelfia. E poi che è successo? Ma devo dire che ho avuto nove anni davvero privilegiati dove sono tornato a fare il mio mestiere e sono riuscito anche a realizzare qualcosa che era un piccolo sogno che avevo da tanti anni, cioè un percorso di doppia laurea in medicina e chirurgia tra l'Università Cattolica di Roma e la mia università, la Thomas Jefferson, dove gli studenti studiano tre anni qui e tre anni negli Stati Uniti e alla fine possono esercitare la professione in tutti e due i continenti, in tutta Europa e in tutti gli Stati Uniti. E questo è un po' anche una delle motivazioni che mi ha portato, diciamo, a candidarmi. Il fatto di avere una visione globale, il fatto che stiamo entrando in un mondo completamente diverso e vedere questi giovani ragazzi che l'anno prossimo il primo gruppo si laureerà e potrà lavorare a Siattola, a Miami, oppure a Berlino, o Roma, o Londra, beh, questo per me fa la differenza. Allora, Federica, poi adesso sentiremo ovviamente anche Paolo Damilano sulla sua candidatura, che ti è parso ieri Giorgia Meloni intanto rispetto al caso Liguria, perché non aveva fino a ieri detto nulla? Posso fare un commento brevissimo su Giorgia Meloni? Il fatto che lei, che sicuramente è una donna intelligente, nel servizio che lei ci ha fatto vedere ha detto i ministri che io ho nominato si è portato un po' avanti con il lavoro, perché i ministri ancora nella nostra Costituzione li nomina il Presidente della Repubblica. Federica? Vero. Devo dire, a me ha colpito invece la spavalderia di dire voglio arrivare con gli stessi ministri di questo governo, perché è vero che non è mai successo. Cioè, sventendo tutte le voci di un possibile rimpasto dopo l'europea e via dicendo. Diciamo, dicendo che, quindi professando una grande fiducia nel futuro di Daniela Santanchè, smentendo le voci e gli attriti che ci sono rispetto a diversi ministri, abbiamo avuto ultimamente lo sconto tra Lollo Brigida e Pichetto Fratin, e però devo dire che poi lei potrà dire io volevo fare così, ma la magistratura o l'Europa, se qualcuno andrà a fare l'eurocommissario, perché ha detto che vorrebbe no, una delega forte all'economia e chissà se Giorgetti, che un giorno sì o un giorno no, dice io sto solo alle mie condizioni, gli saranno fischiate le orecchie. Il caso Toti, ma ha detto... Cioè ha dato ancora del tempo rispetto alle tante voci anche diverse nella maggioranza, no? Allora, a me è sembrato l'onore delle armi, ha governato molto bene, ha un governatore che però difficilmente potrà rimanere, lei lo sa, e del resto il sostegno di Fratelli Italia è stato, a parte Crosetto, che però è un indipendente in quel partito, è stato molto tiepido. Peraltro anche la Lega, che la difesa spadatratta con Rixi l'altro giorno ha detto, beh, insomma, due anni ancora in queste condizioni per Toti sono molto complicati. Non solo, e Rixi, che è l'uomo forte in Liguria della Lega ed sta con Salvini al Ministero dei Trasporti, si è ben guardato finora dall'entrare in partita, quindi secondo me c'è molta cautea. C'è un fatto oggettivo, come si è detto, non si può governare una regione dai domiciliari, quindi c'è un tema di paralisi, a parte per il PNRR e la Diga di Genova, ma in generale per una regione che peraltro ha anche buona parte del suo introito dal turismo, adesso arriva l'estate e bisogna fare in fretta. Io penso che il dire, aspettiamo l'interrogatorio, sia un modo di cercare di arrivare a dopo il 9 giugno, sapendo che dopo il 9 giugno poi bisogna agire. E ci sono, oltre al fatto oggettivo, degli appetiti politici, perché Fratelli d'Italia non fa mistero, ed è vero, di essere sottorappresentata nel governare le regioni. Toti è il leader di un piccolo partito e dunque la Liguria diventa politicamente un bottino contendibile. Allora andiamo in pubblicità, è tardissimo, devo riparto da Paolo Damilano e inseriamo un elemento che è quello del super bonus, super bonus per cui ieri si è vissuta una giornata d'alta tensione, diciamo così, in Senato. Lo vediamo dopo la pubblicità. Sono state ore cruciali per la stretta al super bonus. Al Senato e in Commissione Finanze si votavano i sub-emendamenti all'emendamento al decreto governativo sulla retroattività dei crediti di Livizi. È la 32esima modifica del super bonus, le ha contate l'Associazione Nazionale dei Costruttori Ance, tra un cantiere e l'altro. Un clima teso che ieri pomeriggio in Commissione ha fatto aumentare la tensione con il tentato blitz di Fratelli d'Italia per aumentare i numeri della maggioranza e far passare il decreto contro il parere di Forza Italia. Il soccorso è arrivato a sorpresa da Italia Viva a favore dell'emendamento proposto dal governo. Forza Italia ha votato astenuto. Noi abbiamo presentato gli emendamenti per dire benissimo si interviene ma le norme entrano in vigore dal giorno successivo all'approvazione della legge. Quindi entrano in vigore e riguardano il futuro e non il passato. che la questione terra-banco ancora intricata com'è in Parlamento è scontato. Forza Italia tra i sub-emendamenti ha presentato l'opzione di togliere l'effetto retroattivo dallo stop per i crediti acquistati da banche e istituti finanziari e che il divieto di compensazione scatti a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione e cioè a partire da gennaio 2025 in poi. Uno scontro aperto da giorni tra i ministri Giorgetti e Tajani si discuteva su un effetto retrattivo previsto dal MEF dal governo e anche da Giorgetti serve un'argine alla valanga che ha travolto i conti pubblici 210 miliardi di detrazioni fiscali dal 2020 a oggi dei quali 160 di super bonus scontabili in 4 anni che nei bilanci fino al 2027 pesano sul debito più di 35 miliardi l'anno scontarli non più in 4 ma in 10 anni porterà un po' di ossigeno. I soldi sono finiti lo aveva detto Giorgetti tra i suoi out-out tentativi del vicepresidente Tajani di indorare la pillola alla fine è volato quel se ne faccia una ragione con cui Giorgetti pensava fino all'altro ieri di poter chiudere la partita norme con effetto retrattivo sono contro la nostra civiltà giuridica e su questo anche l'amico Giorgetti se ne farà una ragione da qui la risposta di Giorgetti o lui o io evocando la sua permanenza a via 20 settembre allora verrebbe da dire che è finita con un X con un pareggio questa partita poi c'è ci sarà il voto finale in aula ma insomma questo mi pare questo mi pare lo scenario da Milano intanto le chiedo subito visto che appunto lei è in Forza Italia è finita bene per voi questa partita o no? Questa del super bonus ma chiede ma sa più che è finita bene io direi che è assolutamente condivisibile il parere del segretario Tajani perché di fondo bisogna che i cittadini italiani continuino a fidarsi del loro governo ora dare una retroattività a un impegno che il governo si è dato nei confronti dei cittadini e imprese è comunque venir meno la fiducia proprio nei confronti del governo e questo non deve avvenire perché insomma cittadini imprese si sono fatti dei piani finanziari dei piani industriali sul futuro sulla conduzione delle aziende ma anche soltanto di quelle che sono insomma le spese per i privati dall'altra parte posso capire il ministro delle finanze il quale dice è comunque stata una legge le cui finalità erano sicuramente ottime perché si trattava di far ripartire l'economia lo sappiamo molto bene quindi c'era da dare una spinta al settore edilizio però non si sono calcolate non si sono valutate bene quelle che potrebbero essere poi invece gli aspetti negativi e quindi oggi c'è un grave un grave problema da un punto di vista di conti di cassa da parte del governo quindi è evidente che entrambe le posizioni sono sostenibili però qui bisogna che i cittadini italiani non venga meno la fiducia nei confronti del governo nei confronti di quelle che sono le sovvenzioni e gli aiuti che danno per l'economia Caso Totti dal suo punto di vista per una questione di opportunità politica mettiamola così non dal punto di vista né giudiziario né penale dovrebbe dimettersi il governatore della Liguria? Mi lasci dire io sono molto dispiaciuto sotto l'aspetto umano per tutto quello che si sta verificando poi dopodiché anche lì è brutto vedere come i processi avvengono nell'arco delle 24 o 48 ore poi si scatenano dibattiti le intercettazioni eccetera sappiamo benissimo che decontestualizzare magari una frase parlare anche soltanto di un episodio in qualche modo può condizionare anche il giudizio dell'opinione pubblica ma non è assolutamente quello che poi è il risultato finale il risultato finale spetta alla magistratura che ha aperto un'inchiesta e questa inchiesta dovrà poi portare ad accertare quelle che sono le reali responsabilità il governatore Totti ovviamente sta valutando in base anche a quello che sono le accuse che gli vengono fatte e credo che lui sarà la persona la persona principale che dovrà poi decidere quale tipo di decisione prendere Senta per fare par condicio lo chiedevo a Marino all'inizio lei fa l'imprenditore ma anche lei ha questa passionaccia per la politica Sì io due anni e mezzo fa durante la pandemia avevo preso appunto la decisione di candidarmi alla carica di sindaco di Torino ho creato insieme a un po' di amici qui torinesi un movimento politico lo abbiamo chiamato Torino Bellissima ci siamo uniti al centro-destra dopo 22 anni siamo riusciti ad arrivare al ballottaggio è stata un'esperienza bellissima che in qualche modo io poi adesso nelle elezioni europee parlando prima col segretario Tajani e poi con il presidente Cirio ho detto bene perché insomma la nostra esperienza la nostra capacità di fare politica sotto un aspetto civico e riuscire a partecipare a delle elezioni importanti come quelle che saranno quelle europee dove nei prossimi cinque anni davvero ci saranno decisioni davvero importanti per il nostro futuro e allora questa è certamente stata una una ottima possibilità l'area del centro della competizione è molto larga perché come sapete noi abbiamo tutta la Lombardia Piemonte Liguria e Valle d'Aosta però insomma è un'esperienza anche questa diversa molto molto difficile però anche molto molto importante sì peraltro chiedo conforto mi pare che a queste europee voti anche la regione Piemonte oltre a molti comuni no? l'8 e 9 giugno da Milano sì esatto per ricordare per la regione Piemonte per ricordare che ho un voto insomma che richiama potenzialmente moltissimi elettori poi vedremo quale sarà l'affluenza anche lì insomma ci si scommette Sileoni ripartiamo dalla mi interessa molto sentire Sileoni anche su tutta la parte super bonus che riguarda le banche ma partiamo dal caso Toti allora io conosco abbastanza bene la Liguria e voglio essere intellettualmente onesto nell'affermare che sia il comune di Genova che la regione Ligure sotto la gestione il comune di Marco Bucci e di Toti per quanto riguarda la regione è stata gestita dal mio punto di vista bene tra l'altro in pochi ricorderanno che la più grande banca la storica banca locale è la Carigie sotto negli ultimi tre o quattro anni stava per fallire sono intervenuti brillantemente sia Toti che il sindaco quello che non capisco e qui mi rivolgo anche all'autorevole presenza dell'ex sindaco di Roma questo accanimento contro il presidente Toti e dice bene la dottoressa Fantozzi un conto è l'aspetto politico un conto è l'aspetto della gestione della regione Liguria sotto l'aspetto politico Toti dovrà decidere se dimettersi credo che lo farà chiaramente qui mi riallaccio alla presenza del sindaco di Roma io ricordo perfettamente prima a telecamere spente dicevo al sindaco che era stato un eroe perché nella gestione che lui ha fatto del durante il suo mandato a Roma della città più difficile forza del mondo è stato preso d'assalto da bande criminali da professionisti che dovevano sistematicamente e che avevano messo in piedi un sistema per delegittimarlo giorno per giorno poi abbiamo visto le gestioni che sono arrivate dopo la gestione di Ignazio Marino che i risultati hanno portato a casa quindi se io dovessi scegliere sceglierei oggi ma comunque c'è un fattore tempo che è passato e noi sappiamo tutti che quando passa il tempo perdiamo occasioni ci invecchiamo oggi chiaramente la gestione di Ignazio Marino va dal punto di vista politico e della gestione completamente appunto rivalutata Marino ha trovato un fan ha visto insospettabile no no non credo di aver trovato un fan perché penso che come col lavoro e diciamo la professione di sindacalista che fa sì però esperto di economia sa perfettamente una cosa che mentre si parlava a quei tempi della panda rossa così nessuno ha detto e lo dico io oggi ma basta controllarlo sulle agenzie di rating che durante i miei 28 mesi per la prima e unica volta nella storia della nostra Repubblica la capitale Roma è stata con gli scoring che dà Fitch per esempio portata da negativo a stabile perché io riuscii a eliminare 400 milioni l'anno di sprechi guardi che Fitch non è che la gestisce qualcuno che si apprende arriva lì la mattina va al negozietto pizza e fichi insomma lei gli hanno fatto pagare il fatto che ha voluto decidere in autonomia che non ha accettato i compromessi questa è una città che da sempre purtroppo in molti aspetti vive anche ma questo si collega molto bene al caso però posso finire una cosa ecco la stessa prudenza va usata per caso Toti allora quello che io non accetto del caso Toti fosse peraltro per la grande credibilità che nonostante qualche particolare situazione non positiva ha vissuto la magistratura per me la magistratura oggi ancora oggi è l'ultimo baluardo a difesa della democrazia non è un caso le faccio una confidenza che mia figlia studia a Milano per diventare magistrato alla cattolica quindi io credo che prendere di petto la magistratura per giustificare un attacco politico non sia stata giusta però la stessa prudenza e la stessa come dire lo stesso grado di inciviltà che è stato che è stato purtroppo utilizzato per il sindaco Marino va non va utilizzato per il presidente della regione Toti che dal punto di vista amministrativo credo che abbia amministrato bene prima di andare in pubblicità ci spiega banche, crediti super bonus questo emendamento del governo vi penalizza le banche? le penalizza perché la spalmatura comunque penalizza dà più respiro al governo ma penalizza comunque le banche il problema è stato centrato perfettamente dal servizio professionalmente validissimo che avete presentato ma insomma per farla breve in sintesi la situazione è comunque sfuggita di mano complessivamente all'inizio abbiamo avuto una norma non scritta bene non chiara che ha lasciato spazio a come dire abusi di ogni genere i controlli sono stati pochi noi oggi abbiamo 122 miliardi di crediti fiscali fra branche ed imprese il vostro servizio ha evidenziato che dovremmo scontare 35 miliardi fino al 2027 molto più di una legge di Milano quindi il super bonus che è passato che è passato dal 110 come voi sapete al 70% sulle spese pagate nel 2024 e al 65% per il 2025 e comunque dovrà essere pagato dai cittadini in un momento in cui la sanità è carente in un momento in cui la sicurezza è carente in un momento in cui non funziona purtroppo quasi niente in questa nostra nazione io credo che non siamo così foschi che non funzioni niente in Italia ho detto quasi niente diciamo che sono pessimista io però io giro dalla mattina non solo l'Italia ma anche l'Oroma ma in Italia le posso garantire che se facciamo un esempio a livello di servizi fra Dublino e alcune grandi città italiane fra Oslo e alcune grandi città italiane fra Stoccolma e alcune grandi città italiane paghiamo più tasse e abbiamo molto meno prima di andare in pubblicità ve lo voglio riconvolgere da Milano anche perché appunto milita in un partito della maggioranza non funziona quasi niente in Italia da Milano glielo chiedo non solo come politico diciamo ma anche come imprenditore ma come cittadino eh certo ma diciamo che c'è un po' la tendenza a drammatizzare la narrazione del nostro paese ma questa è una cosa che purtroppo è insita in noi italiani che non riusciamo a vendere bene il prodotto italiano anche quando lo andiamo a raccontare ma a parte questo è una situazione credo comunque positiva perché se guardiamo i dati del PIL i dati dell'occupazione sono dati davvero confortanti poi dopodiché che da questo si debba andare a migliorare tutta una serie di servizi però fatemi dire il percepito che raccolgo io anche durante la mia campagna come dicevo così vasta da un punto di vista territoriale è comunque un percepito buono insomma quindi un'economia che funziona un'economia sana di conseguenza poi rende un po' tutti più più contenti sapete bene la difficoltà che c'è in questo momento anche soltanto a livello di ristoranti a livello di hotel a livello di turismo ci sono dei dati molto confortanti quindi da questi queste sono le basi sulle quali puoi partire per cercare ovviamente ma su questo io sono d'accordo che ci siano ancora certamente cose da perfezionare mi scusi però devo andare in pubblicità che c'è un flash io non voglio drammatizzare e non sono una persona negativa nel mio DNA basta leggere i criteri e i rapporti del Financial Times piuttosto che dei più importanti quotidiani nazionali dove viene misurata attraverso determinati parametri la qualità della vita e vi rendete conto che non siamo messi benissimo rispetto alle più importanti capitali del nord Europa questo è un dato di fatto che ci siano i nostri giovani migliori che scappano per andare a studiare all'estero è un dato di fatto ci sarà qualche motivo velocissimo c'è un tema da non dimenticare che è quello delle retribuzioni comunque noi abbiamo delle retribuzioni molto basse allora se intorno a noi cresce oltre il costo della vita in Italia ma crescono gli studenti i salari in tutto il resto del mondo nel mondo globalizzato dove lavori a Berlino Filadelfia e Roma diventiamo sempre meno attrattivo come paese in questo senso non c'è dubbio pubblicità allora intanto poco fa Salvini quindi il ministro dei trasporti e delle infrastrutture vice premier ha parlato di una questione che molto incrocia con i temi europei di cui molto poco si sta parlando in questa campagna elettorale che è la fusione Ita-Luftanza e Salvini dice boicottare l'unione tra Ita e Luftanza sarebbe un danno enorme in primis per i lavoratori per questo se la commissione europea facesse perdere tempo sarebbe gravissimo se qualcuno in queste ore sta lavorando per far saltare l'operazione è un atto ostile verso l'Italia e verso gli italiani sarebbe l'ennesima dimostrazione che a Bruxelles ci sono cittadini di Serie A e di Serie B lo dico perché mi pare che ieri Giorgetti era nuovamente con la Vestager a colloquio per sbloccare questa situazione e come sapete non è un segreto per nessuno ci sono molte voci che dietro questi rallentamenti ci vedono l'interesse della Francia caro Ignazio Marino ma io ritengo che questa definizione cittadini di Serie A e di Serie B sia una responsabilità tutta nostra tutta italiana perché gli altri paesi selezionano i candidati per l'Europarlamento sulla base delle loro competenze sul fatto che poi si sappiano anche esprimere in lingue diverse e sul fatto che siano presenti a Bruxelles è chiaro che se tu sei competente ti sai esprimere e sei presente alla fine conti molto di più di chi non è competente non parla che il suo dialetto locale e non è presente mai noi abbiamo dei record men di assenze a Bruxelles che hanno raggiunto quasi il 90-99% di assenze beh questo è veramente io lo trovo scandaloso ed è chiaro che poi se tu a quel tavolo non ci sei mai è chiaro che poi gli altri la Francia la Germania alla Spagna faranno ma non solo loro io mi ricordo da sindaco da sindaco noi eravamo penalizzati perché avevamo avuto la discarica di Malagrotta che rimaneva aperta quindi non potevamo accedere ai finanziamenti europei in quello stesso anno una bravissima sindaca parlo di quando ero sindaco io di Sofia Bulgaria riuscì a portare un miliardo di euro di finanziamenti e rifece tutta la rete tramviaria della città ma perché perché quelli ci vanno noi invece anche adesso primo come dice lei giustamente non parliamo dei veri temi due candidiamo persone anche Tajani questa mattina alla radio ha detto ma io non ci penso nemmeno ad andare in Parlamento ho dedicato 30 anni della mia vita all'Europa l'altro giorno la Gabanelli ti fa vedere che Salvini prende alle ultime europee 600 mila voti e poi in Europa ci va quello dopo di lui che ne ha presi 9 mila ma insomma ma che democrazia è? posso chiedere una curiosità mi limito alla circoscrizione centro in cui lei è capolista lei ha guardato le altre list ovviamente delle altre forze in campo ecco dando un'occhiata così ha trovato una migliore qualità dei candidati? no perché non so chi ci andrà perché io ho scritto a tutti i capolista i capolista del centro Italia che sono la Schlein la Meloni Tajani Calenda chiedendo a tutti un confronto sui temi visto che siamo tutti capolista confrontiamoci sui temi sa cosa è successo non mi ha risposto nessuno ma perché loro sanno perfettamente che anche se prenderanno tanti voti che gli potrà diciamo in qualche modo rafforzare nella loro nella loro vicenda o vita politica a Bruxelles non ci pensano neppure di andarci è chiaro e d'altra parte anche logico che fa il presidente del consiglio si dimette a Bruxelles la domanda successiva che le faccio poi vado da Paola Milano è questa ma gli italiani lo sanno che è uno specchietto per le allodole per cercare maggiori consensi perché molti hanno detto è una truffa adesso io rispetto ovviamente come tutte le opinioni però non è che gli italiani non lo sappiano perché succede così da molto tempo c'è anche una responsabilità mi permetta di dirlo dei media perché io conosco bene il continente americano conosco bene il continente europeo in questo momento ci sono due candidati alla presidenza degli Stati Uniti Trump e Biden ma lei se li immagina se le principali televisioni americane organizzassero un dibattito tra Bush e Obama la gente direbbe ma che si sono fumati questi direttori di rete cioè i candidati sono Biden e Trump non sono Bush e Obama e invece noi tutti questi direttori di rete che si cercano e entrano in gara per ospitare Haley Schlein e Giorgia Meloni che in Europa non ci andranno mai e che probabilmente non se ne occupano di temi europei oppure se se ne occupano come ha fatto la Schlein in Italia vota contro la deviazione dei fondi del PNR per le armi in Ucraina e con lo stesso partito in Europa vota a favore cioè queste sono prese in giro ti faccio andare da Milano come dire lanciando anche una piccola autopromozione che come sapete ieri Enrico Mentana ha proposto due serate diciamo elettorali 5 e 6 giugno prossimi quindi a ridosso proprio nell'immediatezza quasi del voto europeo dicendo invitiamo i candidati i leader dei maggiori delle maggiori forze politiche e poi quelle delle forze politiche minori in due serate in modo che tutti si possano confrontare questa è stata diciamo l'offerta quelli veri o quelli finti quelli veri che ci andranno veramente o quelli finti dei leader non lo so dei leader i leader di tutte le forze politiche poi se ci andranno meno questa è un'altra discussione vediamo che succederà mi pare che solo Conte del Movimento 5 Stelle ha detto io sono pronto a venire vediamo aspettiamo risposte da Milano insomma ci si cambia da adesso non sarà il suo caso lei si cambia in Europa immagino e se sarà eletto per stare in Europa o no? assolutamente sì quello che io ho percepito è che sull'Europa ci siano tante cose da fare e bisogna avere su questo sono anche d'accordo con il dottor Marino avere comunque delle competenze non sempre le competenze devono arrivare diciamo così dai burocrati perché forse una delle delle problematiche maggiori dell'Europa di questi anni anche nel momento in cui si è dovuto legiferare che i burocrati probabilmente non hanno il contatto con quelli che sono poi i problemi reali ecco perché è certamente importante andare in Europa avere una selezione di candidati di qualità ma anche che siano dei candidati che in qualche modo sappiano poi mettere a terra anche quelle che sono le esigenze dei propri territori delle proprie nazioni cioè diciamo la stessa cosa allora perché candidare chi sappiamo che in Europa non ci andrà cioè io vorrei sapere chi mi rappresenta in Europa se io voto Tajani Schlein Meloni io non lo so chi poi verrà dopo di loro e andrà a sedersi in Europa saranno competenti e preparati come dice Damilano o saranno gli ultimi della classe prego Damilano sì io posso dire no io posso dire che da un punto di vista di preparazione e parlo almeno per quello che riguarda Forza Italia è il partito con il quale io parteciperò da indipendente a queste elezioni si può dire tutto al ministro Tajani ma non che non abbia una preparazione a livello europeo ma non ci va non ci va non ci va non sto dicendo questo da Milano sto dicendo che non ci va detto questo detto questo detto questo detto questo il fatto di non andarci non esclude il fatto che il ministro Tajani sarà un riferimento importantissimo all'interno dell'Europa quindi il fatto che lui oggi sia comunque candidato io rivedo comunque come il fatto di assumersi anche una responsabilità da fare da capofila a un progetto che deve ritornare a essere importante sull'Europa perché diciamo anche questo che bisogna fare anche un po' un'operazione di marketing elettorale nel senso buono cioè bisogna di nuovo far appassionare le persone anche alla politica bisogna ricondurle anche a quelle che sono le tematiche importanti europee e far capire loro quanto sarà importante votare per le europee io continuo a essere molto preoccupato sul fatto che le prossime elezioni l'astensionismo potrebbe ancora crescere quindi mi riallaccio anche al fatto dei dibattiti eccetera ma insomma i media hanno anche la responsabilità buona di tenere alta l'attenzione nei confronti dell'elettorato e quindi benvengano anche i confronti elettorali benvenga anche la possibilità comunque di arrivare direttamente nei confronti delle persone che poi in qualche modo devono di nuovo anche appassare perché c'è questo tema che non dobbiamo mai sottovalutare il fatto di tornare ad appassionarsi alla politica e le tenammatiche che insomma riguardano tutti noi allora devo andare da Paolo Sottocorona però devo chiedere una cosa a Federica Fantozzi perché queste ultime riflessioni Paolo Dammilano diciamo ci ha offerto l'assist intanto tu credi che alla fine il confronto tra Meloni e Schlein si farà da Vespa che insomma sta montando questa protesta delle altre forze politiche che dicono a nessuno di serie A e di serie B c'è il proporzionale siamo tutti alla pari sta montando credo che oggi ci sia una riunione della Gcom quindi non so non so dirti se alla fine si farà o no io devo dire trovo che le regole della par condicio come del silenzio elettorale andrebbero poi ricalate nel tempo che viviamo in come funziona l'informazione eccetera francamente non vedo non credo che ci sarebbe uno scannalo in un confronto Schlein Meloni purché poi siano dati anche in altri in altri momenti in altri spazi analoge possibilità e temi agli altri candidati cioè ci si può con un minimo di flessibilità mettere d'accordo non mi sembra un punto così così terribile ma allora Paolo no scusami volevo dire due cose brevemente rapidissima perché oggi sono è colpa mia no condivido quello che ha detto Ignazio Marino c'è un tema di candidati che devono essere più competenti più presenti e anche più convinti cioè non arrivarci come se l'Europa fosse un parcheggio un giro di sosta nella loro carriera però sui leader è vero che lui la pensa come Romano Prodi io sono un po' più conciliante nel senso che Ellis Schlein vive il suo momento politico il PD come lui sa bene è molto veloce a far fuori i segretari e i componenti io credo che l'idea di giocarsi una partita poi nell'ambito della politica tutto tonda un senso adesso vedremo quale sarà l'affluenza ma in Italia sta diventando un referendum però non si può utilizzare una questione così seria come l'Europa per rafforzarsi all'interno delle correnti del proprio partito o per vado un po' oltre il PD o per misurare i rapporti di forza nella maggioranza e nell'opposizione nella politica si combatte con le armi che si hanno Paolo c'è una situazione molto critica su Milano mi pare in Lombardia sì ed era proprio quella situazione che si era vista anche da ieri l'altro ieri un passaggio di maltempo molto forte molto intenso e quindi tra virgolette critico ed è quello legato a queste nuvole che interessano il nord perché poi alcune sono sull'Appennino altre in Sicilia dove invece purtroppo di piogge al momento non ne stanno dando vediamo il quadro complessivo per oggi vedete eccole qua queste situazioni queste zone fra giallo e rosso parlano di quantità alla fine delle 24 ore che partono da 50 a 60 mm arrivano oltre i 100 150 quindi situazione decisamente critica che prende tutto il nord centro e sud appunto qualche forza qualche debole pioggia se non è anche quella si vede già si vedeva già nella foto la tendenza a una leggera attenuazione sulle zone di nord ovest infatti la previsione per domani sul Piemonte lascia qualche diciamo fenomeno residuo ma ormai in via di esaurimento invece la parte centrale quindi Lombardia poi il Trentino poi il Veneto il Friuli-Venezia-Giulia guardate questi colori sul rosso qui siamo oltre i 150 mm stimati quindi sicuramente ma al tempo ancora molto forte in Toscana qualche pioggia se no il centro-sud solo con qualche nuvola finalmente sarei per dire venerdì migliora un po' tutto ci sono ancora delle piogge resfide sulle zone alpine in parte il Friuli-Venezia-Giulia però il peggio sicuramente sarà passato centro-sud con tempo decisamente stabile grazie allora di gran carriera in pubblicità torniamo facendovi sentire cosa ha detto ieri Giuseppe Conte nel sit-in del Movimento 5 Stelle a proposito della tassa sugli extra profitti a tra poco incapacità viltà mancanza di coraggio di visione sono entrate nelle casse dello Stato in virtù di questa tassa sugli extra profitti che di tassa ha solo il nome e di extra profitti ha solo il cognome zero euro io non lo so Giorgetti ma parlo a te adesso sarai nel volo di rientro non lo so ma dico con quale faccia sei venuto in Parlamento a dire che la vostra tassa sugli extra profitti ha incubato ha portato nelle casse dello Stato zero euro ma non ti sei vergognato e ha detto anche altre cose il leader dei 5 stelle ha detto che questo governo è inginocchiato davanti al potere delle banche Sileoni devo ripartire per forza da chi rappresenta il maggior sindacato dei bancari italiani ma come già una volta ne parlammo qui a Coffee Break perché lei era favorevole alla tassa sì io ero favorevole anche devo dire per un assento elettuale che anche i segretari generali confederali quindi a partire da Landini a tutti gli altri erano hanno fatto un comunicato unitario erano favorevoli il problema è questo essenzialmente do qualche informazione in più all'interno dell'ABI c'era qualche gruppo che è l'associazione delle banche sindacale delle banche sì c'era qualche gruppo bancario importante che aveva già messo in preventivo aveva accantonato a bilancio il fatto di dover pagare questo imposto anche per motivi di carattere politici c'è stata una pressione forte appena è uscito il provvedimento del governo e in sostanza il governo ha fatto marcio indietro ora nel momento in cui le banche raggiungono utili di bilancio storici come mai era accaduto se avessero dato un contributo allo Stato di 2-3 miliardi questa è la cifra che sarebbe venuta fuori e che impegnava in qualche modo le banche non ci sarebbe stato niente di male ora è chiaro che le banche comunque pagano una serie di tasse estremamente significative e importanti ma qui veniamo al ruolo sociale delle banche che in Italia e in altri paesi dovrebbero avere quindi il ruolo sociale delle banche deve essere realizzato e per realizzarlo questa sarebbe stata l'occasione più utile più importante e avrebbe in qualche modo ma è mancata questa sensibilità da parte dei banchieri? no c'è stato una componente all'interno di Abbi che ha avuto il sopravvento rispetto a un'altra componente delle stesse banche ma diciamola tutta secondo me e ritorniamo sempre a un punto anche lo scandalo di Genova cioè che alla fine dei conti qui non comanda più la politica ma comanda la finanza per cui ci sono degli imprenditori che certamente avevano degli interessi importanti e che hanno bloccato la tassa sugli extraprofitti che è così logica perché se si passa da un mutuo che è il cittadino e qual è allora il ruolo sociale delle banche quando il cittadino passa dall'uno o dal meno uno al 7% su un mutuo? lei ha ragione però se noi dobbiamo analizzare questa situazione facendo una fotografia degli ultimi due anni la risposta è quella che ha data lei però se andiamo a vedere i governi degli ultimi 40 anni in Italia questa come dire questa sudditanza concreta ma non psicologica verso il sistema bancario italiano e a livello europeo dei governi rispetto ai rispettivi sistemi bancari europei è fortissima oggi chi comanda lo dico da anni io è la banca centrale europea non sono i governi la banca centrale europea è molto più forte della Germania della Francia dell'Olanda la banca centrale europea prende le stesse posizioni che lei conosce bene che prende la feder riserva americana e quindi è tutto un collegamento fatemi sentire da Milano su questo dandovi una notizia che viste le scassate risorse nelle casse dello stato italiano è una notizia incoraggiante arriva da Banca Italia nel primo trimestre di quest'anno quindi gennaio febbraio e marzo le entrate tributarie sono state pari a quasi 123 miliardi in aumento del 7-8% rispetto al trimestre lo stesso trimestre dello scorso anno questo è il dato di Banca Italia da Milano Forza Italia peraltro io ricordo proprio Contagliani insomma ha detto no noi di questa tassa sugli ex aprofitti non eravamo stati informati e so che insomma anche Forza Italia insomma ha voluto che il provvedimento cambiasse o no ricordo male? Sì no ricorda assolutamente bene ma anche su questo credo che il dottor Conte sia in campagna elettorale quindi sia anche molto facile parlare di certi argomenti ma si cerca sempre di ricondurre tutto il fatto che chi guadagna di più deve alla fine deve essere tassato deve essere in qualche modo penalizzato che mi faccia dire se dovesse passare questo tipo di concetto in qualche modo si spaventerebbero anche comunque investitori esteri che volessero venire a investire sul nostro paese il tema vero e forse ne se ne parlava prima è creare posti di lavoro e che ovviamente questi posti di lavoro siano retribuiti in maniera congrua rispetto a quello che è il costo della vita allora se parliamo di costo della vita arriviamo poi dopodiché all'inflazione e parliamo anche di quelli che e torniamo in campo europeo con la banca centrale perché diminuire i tassi perché poi l'origine di quelle che sono le problematiche di oggi per quello che riguardano i multidi privati per quello che riguardano le aziende che devono rivestire è il fatto che questi tassi non riusciamo in qualche modo a farli scendere questo sarà una tematica da affrontare non nel medio termine ma nel breve termine perché se vogliamo davvero che l'economia possa continuare a confermare i dati che sta dando in questo momento bisogna evidentemente che anche sui tassi ci sia una presa di posizione molto veloce allora ieri ho una notizia il responsabile Europa del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer che cosa ha detto ha detto una cosa che tutti si aspettano e che in parte sappiamo è che la BCE ha detto prevediamo che la BCE ridurrà i tassi a partire da giugno con tagli di 25 punti base ogni trimestre questo è importante ma va precisata una cosa dato che abbiamo due ottimi candidati alle elezioni europee intanto una precisazione se io guadagno come sistema bancario italiano e questo vale anche per gli altri paesi europei 15-20 miliardi in più solo per il fatto che la BCE aumenta i tassi qui non c'è un ragionamento di impresa qui non c'è una questione dove io sono bravo a gestire l'azienda che sono le condizioni quindi in queste condizioni una tassazione concordata magari c'è stato un errore di comunicazione importante fra il governo e il settore ma una come dire un provvedimento delle banche concordato non ci sarebbe stato male noi abbiamo qui due candidati europei abbiamo parlato della qualità del gruppo dirigente che ci dovrà rappresentare in Europa allora adesso si sta parlando a fari spenti cioè le persone più importanti che gestiscono l'economia europea appositamente hanno messo i fari spenti dell'unione bancaria europea allora se la Germania perché è l'unico ostacolo dovesse togliere oggi il vincolo di partecipare no in qualche modo al salvataggio anche delle banche italiane e non entra a pieno titolo ancora all'interno dell'unione bancaria europea proprio perché considera la nostra economia debole e conseguentemente non vede bene come dire le banche interne nostre ecco in questo caso con l'unione bancaria europea se la Germania dovesse domani mattina sciogliere questa riserva si passerebbe poi a decidere come verranno fatte le acquisizioni anche da parte di fondi internazionali europei saltando a piedi pari quelli che sono gli attuali vincoli ad esempio il golden power in Italia e questa sarebbe una minaccia per le nostre banche ieri Macron ha fatto un'osservazione ripresa oggi da tutti i più importanti quotidiani nazionali e ha detto che per lui va benissimo che la società generale possa come dire acquisire perché ha i soldi perché ha le condizioni e ha le capacità Santander Santander è uno dei più importanti gruppi anche politicamente in Europa della famiglia Boten quindi io credo che chi va in Europa si debba prendere carico della difesa dell'italianità delle banche io no dico solo una cosa tradotto in termini sociali tutto questo ragionamento che è impeccabile significa che chi costruisce più ricchezza sulla ricchezza si separa sempre di più dalle classi più povere dalle classi più deboli e questo è veramente immorale adesso però sia Ignazio Marino sia Paolo Damilano diciamo se dovesse essere eletti in Europa almeno su questo aspetto sono avvertiti mettiamola così quindi diciamo Siriori ha sensibilizzato su un tema che è un po' come dire sfugge ai riflettori generali del grande dibattito perché è complesso perché le banche è complesso ovviamente è molto complesso abbiamo due precedenti negativi di meccanismi Bolkestein e Belin si attenzione completo il dato di Banca Italia perché prima c'era un dato confortante adesso ci dice che a marzo c'è un nuovo picco del debito pubblico italiano oltre 2894 miliardi ma d'altronde mi pare proprio il DEF parli di un debito che arriverà presto a 3000 miliardi una cifra monstra volevo aggiungere qualcosa scusa Federica no volevo dire che il tema quello che diceva l'imprenditore da Milano è giusto ma qui si parla di extra profitti non di profitti normali di una situazione eccezionale e la notizia secondo me il dibattito è stato molto interessante ma non è tanto la resistenza delle banche che fanno il lavoro loro è stata la retromarcia del governo ed è una permeabilità o comunque una tensione eccessiva non solo alle banche ma a tanti non solo poi loro ma di tanti governi a tanti settori della finanza e dell'economia penso agli algoritmi delle compagnie aeree low cost si era detto come no i prezzi sulle tariffe non sono diminuiti oggi tu parlavi di Italufthansa io penso che in Europa ci siano delle lobby delle pressioni e ogni governo faccia il suo può darsi che la Francia faccia il suo ma puoi togliere anche pensi ci sono non è che si sappia però c'è anche un tema di concorrenza scusami l'ultima cosa oggi per dire EasyJet non vola più da Roma a Roma c'è Ryanair EasyJet è tutta da Milano bisogna anche che poi l'Europa o l'Italia badino agli interessi dei consumatori e alla concorrenza quindi sono più più facili è per questo che è importante chi andrà in Europa perché tutti noi stiamo confermando un solo concetto l'asservimento della politica della classe dirigente alla finanza allora David ti vedo ah sei allegro ecco sempre sempre meno male sempre un sorriso al giorno no toglie il medico di torno allora mancano poi seguivo il tuo frizzante dibattito ho seguito poco fa Marino ha ragione mancano 23 giorni alle elezioni torneremo a raccontarvi anche che cosa accade che cosa accade a Genova nell'inchiesta di Genova perché perché dopo una settimana sostanzialmente il presidente la presidente il premier chiamatela come vi pare insomma Giorgia Meloni ha parlato e ha detto ha detto pochissime cose in realtà di fronte a un fatto che comunque è un fatto piuttosto eclatante c'è un governatore della regione del centrodestra che sta agli arresti domiciliari e quindi non può esercitare la sua funzione Meloni ha semplicemente detto attendiamo la sua versione dei fatti il che va benissimo ma voci sempre più insistenti parlano di sue imminenti dimissioni che cosa accade nel centrodestra l'unico a difendere Totti è sostanzialmente Matteo Salvini che ascolteremo anche Crosetto ha detto non può governare ovviamente stando ai domiciliari ma insomma questo attendismo quanto può durare parleremo di questo e poi ieri Liliana Segre la senatrice a vita è intervenuta sul tema del premierato e ha detto delle cose che dovrebbero farci riflettere cioè questa riforma rischia di dare troppo potere nelle mani di una sola di una sola persona e poi una grande inchiesta torneremo su questo ponte sullo stretto di Messina sarà con noi l'amministratore delegato Ciucci che più volte era qui e il giornalista della Repubblica che ha tirato fuori una serie di dati interessanti su tutte le società che avrebbero già in qualche modo l'appalto per costruire un pezzo di ponte quindi è interessante il ponte non c'è ma le società interessate già ci sono ci vediamo tra poco anche con gli studenti dell'Università della Sapienza la nostra Igarantonelli oggi è la giornata in cui in tutte le università inizia l'occupazione la movimentazione dei movimenti pro palestina ci sarà con noi Luciano Canfora Antonio Di Pietro Alessandra Moretti Angela Zaro il direttore del Tempo Tommaso Cerno come dici tu ah poi arriva Giovanni Minoli come dici tu posti in piedi come dici tu io come dici tu posti in piedi grazie David intanto a proposito di Superbonus alle tre del pomeriggio arriva in aula al Senato perché è stato licenziato come si dice il testo dalla Commissione Finanze il voto è atteso tra oggi e domani in Senato a proposito di Superbonus della Discordia grazie a Paolo Damilano e grazie a Ignazio Marino con molti in bocca al lupo per la vostra corsa all'Europa grazie Federica Fantozzi grazie Lando Maria Silioni ci vediamo domani stesso luogo stessa ora grazie grazie